Mi chiamo Roberto Scaini, sono un medico, sono qui a rappresentare Medici Senza Frontiere, non a caso, perché io ho passato un anno della mia vita in Yemen durante il conflitto. Lavoriamo in praticamente tutti i governorati dello Yemen, in 13 ospedali, 80.000 interventi chirurgici negli ultimi tre anni, 20.000 bambini trattati nelle nostre unità pediatriche. Vorrei portare una fotografia di quello che succede oggi in Yemen. Il sistema sanitario non esiste più. Era già un paese povero prima, lo Yemen, che quindi attraversava numerose difficoltà. E poi cos'è cominciato? Sono cominciati i bombardamenti diretti sugli ospedali. Oggi stimiamo che il 50% delle strutture sanitarie yemenite siano state gravemente danneggiate o distrutte. Non ci sono più farmaci. Mi ricordo nel 2016 ho assistito ai primi casi di colera. Il colera è facilissimo da trattare, per cui si riesce a ridurre la mortalità a numeri irrisori e non sono stati i numeri dello Yemen. La gente moriva disidratata. I primi casi che abbiamo visto ad Aden ed Eroli quando abbiamo lanciato l'allarme. Un milione erotti di casi. E questo perché le acque chiaramente non vengono più potabilizzate. Poi c'è stata la difterite, c'è stato il morbillo. Ma com'è possibile morire oggi di morbillo? È possibile in Yemen perché non ci sono più le vaccinazioni. Mi trovavo a riaprire un ospedale che era stato bombardato un anno prima. E già questo io mi dovrei già fermare qui. Un ospedale che era stato bombardato. Una giovane donna che è venuta, è arrivata troppo tardi, aveva partorito a casa, dopo quattro ore ha raggiunto il nostro ospedale. Non avevamo ancora neanche la luce in ospedale. Ed è morta di quella che tecnicamente si chiama emorragia postpartum. La placenta non era stata espulsa e quindi la donna ha continuato a sanguinare. Ed è morta di shock emorragico. Che è una cosa assurda. Trattare uno shock emorragico per un'emorragia postpartum è facilissimo. Ma non lo è più quando il paziente ti dice che è arrivato dopo quattro o cinque ore dal travaglio. Prima di tutto perché non ci sono più mezzi di trasporto. Ma soprattutto perché quando ti muovi in Yemen sei un bersaglio. Questa è la realtà e questa è la fotografia che vi porto.